Ministro Galletti, lei viene dall'Italia dopo che si sono chiusi i lavori di un G7 complicato che ha visto lo smarcamento, lo definitivo smarcamento degli Stati Uniti dagli accordi di Parigi. Questo fa della Cina sempre più un partner fondamentale nella lotta e la tutela dell'ambiente in particolare oggi qui si è parlato di bonifiche, come valuta questa esperienza l'incontro con le imprese italiane che stanno internazionalizzando la loro opera appunto su questo fronte? Tanto oggi ho avuto modo di parlare con il ministro cinese, con il neo ministro cinese che ha apprezzato il risultato dell'accordo dei G7 sull'ambiente e ha rinnovato la spinta della Cina verso il raggiungimento degli accordi di Parigi e questo è molto importante perché consolida il fronte di tutti i paesi che credono ancora che l'accordo di Parigi sia l'unico strumento possibile per poter combattere i cambiamenti climatici, come è evidente dalle risultanze del G7 di Bologna. C'è un grande impegno delle aziende italiane in Cina e io sono soddisfatto di questo per due motivi. Uno perché abbiamo il dovere dal punto di vista ambientale di mettere a disposizione il nostro NOAHU, la nostra innovazione, la nostra tecnologia a quei paesi che oggi debbono affrontare quei problemi ambientali che noi già da anni affrontiamo in Italia avendo un periodo di industrializzazione più lungo del loro e penso che questo possa essere determinante per la risoluzione di problemi ambientali che ricordo sempre sono problemi globali. I problemi ambientali cinesi sono anche i problemi ambientali italiani perché il clima non ha confini, l'inquinamento è inquinamento planetario, non è inquinamento di una nazione o di un continente, quindi o vinciamo tutti insieme o perdiamo tutti insieme. E poi questa collaborazione può avere anche un grande beneficio economico per le nostre imprese. Il mercato cinese è un mercato molto più grande del nostro, è un mercato che richiede oggi servizi e interventi e infrastrutture come quelle che noi siamo capaci di fare e quindi c'è un grande incrocio, un loro bisogno e una nostra offerta di tecnologia e innovazione di alto livello. Ecco lei infatti ha sempre sottolineato durante il suo mandato quello che è l'importanza di coniugare rispetto dell'ambiente e sviluppo economico. In questo senso una valutazione conclusiva sul accordo tra Remtec e il Feco, l'ufficio di cooperazione internazionale economica del Ministero per l'Ambiente cinese che si è siglato ieri. È determinante perché noi con questo accordo portiamo la nostra migliore tecnologia quella che mostriamo a Remtec ogni anno la portiamo all'attenzione del mercato cinese e la portiamo anche con l'appoggio del governo cinese e degli operatori cinesi. Credo che sia una grandissima opportunità.